Una storia di rabbia Di odio Come puoi metterti addosso quella roba? Non lo sai che cosa ha significato per il tuo popolo? E di fede L'anima di questo paese muore giorno per giorno Ispirato ad una storia vera Per la giornata della memoria con Ryan Gosling Uccidi il tuo neico E Teresa Russell Sei completamente impazzito In prima visione, The Believer Lunedì 26 gennaio alle 21.10 su Cego